cari amici niente piccolo flash d'immagine qua su questo bellissimo trattore steyer molto bello vederlo così perché è molto artistico e vederlo qua che lotta contro se stesso contro il tempo però c'è l'importante che ci sia e niente qua lo dedico a tutti gli appassionati di trattori agricoli è quello qua questo vecchio steyer qua con la brina insomma oggi 30 dicembre un po di brina c'è e niente mi piaceva qua la sua posizione come era messo qua insomma questo bel trattore con la brina forte forte guardate qua cari amici appassionati di vecchi trattori questo steyer lo dedichiamo a tutti gli appassionati di vecchi trattori e niente ragazzi qua il Marvin vi saluta e vi do appuntamento ad un prossimo report ciao a tutti